ragazzi ciao e bentornati sul canale del legio eccoci qui quindi c'eravamo lasciati in questa situazione seppure un po' di rovetta ok diamo un'occhiettina da qui questo mi piace non riuscire a raggiungerlo stiamo attenti fuori riprendiamo quindi da qua con il nostro cecchino cerchiamo di avvicinarci a questo personaggio che non sa se scendere se salire intorno non vedo nessuno quindi procediamo sperando che non ci senta un po' di casino lo stiamo facendo speriamo che resti lì silenzio ragazzi aspetta un rumore ok abbiamo preso attenzione merda merda ecco ci ha un beccato quindi qua dobbiamo lanciarci a qualche parte non c'è nessun punto di fuga qui ok fermi 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 un altro un altro era là sopra ma non lo vedo più ok visto vediamo se riesco ad inquadrarlo ok stiamo ancora un attimo qui proviamo a salire sperando che non ci vedano ok forse non ci hanno visti quindi diamo un'occhiata dove sono andati a finire loro abbiamo distrutto il camion ma è scattata l'allerta non credo che ci abbiano visto però partita l'allerta facendo saltare il camion tutti i fedi abbiamo creato attenzione ora non abbiamo più colpi 4 potremmo provare ad uccidere quel personaggetto lì ma non la vedo semplicissima la cosa ok non so se sono riuscito o meno ad ammazzarlo ok via libera ma non so per quanto perché mi segnava comunque allerta raccogliamo il corpo e lo buttiamo qui raccogliamo anche questo e lo buttiamo qui e vediamo se c'è qualcosa che possiamo prendere no nessuno dei due quindi niente ok quindi proseguiamo andiamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci all'obiettivo stando attenti comunque ok andiamo su ok ci avviciniamo quindi al ripetitore ok e lì sopra attenzione come ci hanno visti ecco qui qua non possiamo andare da nessuna parte vediamo se qui riusciamo a rimanere nascosto se ci fanno fuori malamente ok per ora non se ne è accorto e qui siamo un po' alti quindi non penso che si possa saltare attenzione ok ok uno è sempre lì sopra qua ecco lo che sta rientrando quindi non ci ha visto per il momento ecco Allora, vediamo un attimino qui. Allora, perquisisci il cadavere. Vediamo una controllata, ragazzi. Ok, qui è tutto. Ok, cerchiamo di avvicinarci piano piano e vediamo se... Riusciamo a raggiungere il punto principale della missione. Via, via di corsa. Via di corsa perché ci hanno beccato. Ok. Ecco il primo, secondo, il terzo. Il primo è passato. Il secondo sta passando. Vediamo anche il terzo. Però si sono fermati lì, quindi non posso fare niente. Volevo vedere se... Ecco il quarto. Ok. Vediamo se scendono. Vediamo se qua riusciamo a piazzare una carica. Allora, mina, teller, doppia pressione, o normale. E ne mettiamo un'altra qua. Proviamo a metterne un'altra qua. E andiamo su. Intanto devono ritornare su per forza di cose. Intanto probabilmente qui... Non è rimasto nessuno a protezione. Quindi noi ci infiliamo già qua dentro. E attendiamo... Vedere... Una... Una mina è andata. Attenzione. C'è movimento. Quindi vediamo se... Arriva anche l'altro. E anche l'altro ci casca. No. L'altro è passato. Attenzione. Sta passeggiando lì fuori ancora delle mura. Quindi non è rientrato. E... Perciò... La nostra trappola ha funzionato a metà. Ora scende giù dal sentiero. Quindi noi magari possiamo... Vedere di... Avvicinarci... All'obiettivo... Principale che è qua dietro. Non so neanche io se... Conviene provare ad attirare l'attenzione. Tanto vediamo qui... Se troviamo qualcosa che ci può tornare utile. Mi sa che ho preso tutto quello che serve. Ok, vediamo. Niente, munizioni silenziate. Quindi qui... Mettiamo queste munizioni. Diamo un'occhiata. Ok, ricerca terminata. Quindi... Molto probabilmente dovrebbero rientrare su. Però le mine forse erano troppo vicine. Sono esplose tutte. Vediamo un attimino. E infatti... Ne mettiamo un'altra qua. No, non ce l'abbiamo. Vediamo se... Mille inciampo. Ok, normali. Mille inciampo. No. Però non ha l'azione. Ritardata normale. Ok, la mettiamo qui. Tiriamo il filo. Ok. Vediamo se... Ok, ci ha sentito. Vediamo. Mina. Ha funzionato. Quindi abbiamo ucciso un ufficiale. E' scattata di nuovo l'allerta. Ora diamo un'occhiata. Sta salendo su un... Un altro soldato. Sicuramente qua. Secondo me sta salendo ora. Quindi ritorniamo in un nascondiglio buono. Vediamo se... Arriva da qua o no. Porca miseria. Eccolo, eccolo. Ok, quindi preso. Sparo, sentito. Non si sa da chi, ma l'hanno sentito. Quindi c'è l'allerta. Vediamo se qui intorno c'è qualcuno. O meno. Non mi pare qua. Ok, sento urlare. Ok, c'è qualcuno che sta venendo su ora di corsa. Vediamo se riusciamo a beccarlo da qui. Appena esce. Ok, preso. Ok, ragazzi. Quindi ci siamo. Al momento non mi sembra che ci sia qualcuno che ci segue. Quindi... Vediamo. Ok. Vediamo se possono essere utili. Ecco, ecco. Una lettera. Non trovo nient'altro. Allora, vediamo qui. Non guadagniamo nulla. Ok. Niente. Ok, ragazzi. Quindi... Passiamo. Spero che non sia troppo tardi. Ok. Andiamo a nasconderci. Per evitare l'esplosione. Ok. Andata. Ok, quindi obiettivo primario raggiunto. Tu sei l'angelo. Dobbiamo parlare. Il cecchino dell'SOE. Che piacere averti tra noi. Lei ci ha salvati. Cosa stai aspettando? Andiamo a parlare. Ok, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo primario. Non abbiamo perlustrato il cimitero. E quindi la prossima volta, casomai, vedremo di passare prima per gli obiettivi secondari. Comunque... Comunque... Buono, così. Ha aggiunto il sesto grado. Vediamo se... Vediamo se... Ok, arriviamo a metà, più o meno, per raggiungere il settimo. E quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima. Come vedete, la prossima missione siamo nel viadotto Regilino e per il momento quindi io vi saluto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo. Se non vi siete iscritti ancora al canale potete farlo così da seguire tutte le mie serie al momento. Quindi vi saluto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti dal Dejo. Ciao a tutti.